Il 6 dicembre festeggia l'arrivo del Natale in piazza San Giovanni Bosco a Biella, l'associazione culturale e fucina territoriale biellese, in collaborazione con CNA e Banca del Giocattolo, vi invita a Natale in piazza, tra spettacolo e tanto divertimento per grandi e piccini. Ospiti spettacolari, Elena Tradaini, spettacolo di danza, Arianna Quartesan, del corpo di ballo di Vasco Rossi, Maria Rossi, direttamente da Zeli. Ed inoltre Valeria Cauccino con la sua musica celtica. Molte altre sorprese vi aspettano domenica 6 dicembre in piazza San Giovanni Bosco a Biella, con Natale in piazza.